Io, Giorgia, volevo semplicemente, caro Luca e caro Andrea, salutare un altro Andrea. Andrea, salve. Sì, noi lo vediamo spessissimo, è il tuo braccio destro praticamente. Sì, perché lui è entrato nel video che è diventato virale dell'esultanza di Minam Fiorentina grazie all'attenzione ai tifosi e grazie al lavoro Giorgia è venuto alla Minam Media House. E lui è... io ti smanto, io lo voglio qui, io proprio lo voglio qua fisicamente, perché molti hanno detto ma è impassibile mentre risulta su, ma allora è interista. No, non è interista Andrea, non è interista Andrea, non è interista Andrea. Lui è pacato, lui è sobrio, ha la funzione proprio di tranquillizzarmi, anche sulle questioni tecniche che io non capisco, quindi lui proprio ha questa funzione di tranquillizzarmi, ma è un bravissimo tecnico, non è assolutamente interista, lui deve stare lì, basta. E lo so che non si può muovere. Fa il suo lavoro con professionalità, mancherebbe altro al cielo e poi durante la partita lì deve stare. È l'ultima giornata di campionato, è una partita importantissima, il verdetto per il titolo italiano è ancora aperto, il Milan c'è, il Milan ha fatto di tutto per farcela, nelle prime 37 giornate di campionato e deve confermarsi anche sul campo del Sassuolo. Cerca palla, Tonali, 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 Tonali alla meglio, Tonali, Leao, Leao sull'alto al portiere. La palla è alta, deviazione in calcio d'angolo, grande occasione nostra. Tonali, palla lunga di là per Salemekers, Salemekers è solo, Alexi, Alexi, Alexi la parata di consiglio. Un'occasione clamorosa dopo l'altra, Salemekers scarica la curva. Chessi, strappa Chessi, strappa Chessi, allarga il gioco, su Leao, 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 fa una grande giocata, Leao, il tiro, la parata di consigli, Krunic, la palla, balla in aria, il Sassuolo allontana. Leao che va a recuperare, Leao, Leao ha fatto pressing e se ne va Rafa, se ne va Rafa, se ne va Rafa, se ne va Rafa, Rafa, solo avanti al portiere, Rafa, palla messa in mezzo, Giroud, gol! Ha segnato Olivier, Ali, 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 non temere mai nella vita, non temere mai nella vita. Leao, Giroud, gol, 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi. Sì, Ali! Dentro l'imbucata, poi la deviazione, che sì, finisce a terra, porta a casa il fallo, Frenkie. Frenkie goes to Milan. Attento Alexi che lotta con Kiriakopoulos, palla dentro per Cala Calabria. Cala Calabria, la imbuca, la deviazione, angolo, dai ragazzi! Limite dell'aria, sale Mecker, spalla dentro, Tonari, tiro, miracolo di Consigli! Un tiro fantastico di Sandro Tonari, un tiro meraviglioso dritto per dritto, miracolo di Consigli! Milan strepitoso totale! La palla esce dall'aria, il tiro di Alexi, la parata ancora di Consigli, arriva Teo, Teo, vai! Vai, Teo, vai! Vai, Teo, vai! Deviazione! Incredibile, non segniamo! 800 occasioni da gol in 22 minuti! Calabria pressa! Calabria pressa, l'aveva presa lui, ma adesso c'è Leao, Leao che si inserisce alla grande, Raffaellino. Raffaellino contro Ferrari, Raffaellino se ne va che cosa ha fatto Leao, ragazzi! E gol! Gol! Ancora Giroud! Ancora Giroud! Ancora Giroud! Olivier Giroud! Olivier Giroud! Siamo venuti qua su, siamo venuti qua su per vedere segnare Giroud! Siamo venuti quassù Siamo venuti quassù Per vedere segnare Giroud Cosa ha fatto Leao ragazzi Cosa ha fatto Leao ragazzi Leao fa cose meravigliose Leao regala attimi di calcio inarrivabili E poi Giroud insacca 2-0 per noi 2-0 per noi E poi vediamo No che non è uscita Cicci Non c'è provare Non c'è provare Ecco lo Rade che provare a recuperare palla Grande Rade Grande Rade per Raffaellino Leao Raffaellino Leao Che si Goal Abbiamo segnato ancora noi Frank Cassini Il presidente del nostro cuore 3-0 Strarimpiamo Esaltiamo Dobbiamo tracciare Non ti vuole mai più di qui nella mia vita Non ti vuole 3-0 Meravigliosi Immortali Clamorosi 3-0 Applausi alla Cibilan di Milano Sette volte campione d'Europa E quattro del mondo Questo è il piattone bello Fatato Meraviglioso Di Frenchi Double K KK Che si Gara Calabria dentro Il cross Bellissimo Colpo di testa La parata di consigli Giroud Colpo di nuca Di dietro Rovesciata aerea Di Giroud Leao in area di rigore Il tiro La parata di consigli Tre gol Le 8.000 occasioni 40 minuti di spettacolo allo stato puro Spettacolo in campo Spettacolo sulle tribune della curva Pressa Tomori su Scamacca La palla esce Rimessa d'altra Porta a casa la rimessa Fic Porta a casa la rimessa Fic La rilancia il portiere del Sassuolo Calulu Piere tua Piere tua Piere tua Attento che c'è Scamacca dietro Attento che c'è Scamacca dietro Attento che c'è Scamacca dietro Colpo di tacco Sassuolo Facciamo fatica a dare aria al gioco In questo secondo tempo Siamo un po' Dai ragazzi Liberiamo il flusso del nostro gioco Vi prego Teo Hernandez Servito alla grande da Rafa Teo 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 Dentro Giroud Giroud Troppo dietro Troppo dietro Peccato Chessi Attaccato da tre Chessi Non la perde mai Il presidente dominatore Il presidente prepotente Il presidente perentorio E ancora il Milan Che prova a recuperare Palla Devastante la pressione rossonera Devastante Milan messo in campo Meravigliosamente Dal suo allenatore Stefano Pioli Il Milan che tiene palla Stefano subito Stefano subito Eravamo soli nel bosco Zlatan Nel Natale del 2019 Abbiamo passato un Natale Col cuore al freddo Zlatan Poi tu hai deciso Di darci una buona notizia Di arrivare Di riscaldarci la vita Zlatan Di metterci ancora Sotto La luce del tuo sacro fuoco Zlatan E adesso Negli ultimi 20 minuti Più recupero di Sassuolo Milan Rieco Zlatan Ibrahimović Petto in fuori Occhio rossonero Ibrah Palla lunga Di Ben Nasser Per Rafa Leao Non c'è fuorigioco Rafa Rafa Ibrah Gol Anche Zlatan Vediamo se è fuorigioco o no Vediamo se è fuorigioco o no Non esulta Zlatan Fuorigioco Peccato Inquadrati Gli occhi belli Del Milanista Lo sguardo bello Come il sole Il Milanista è bello Il Milanista non ha veleno Il Milanista è solo bello Il Milanista è meraviglioso Non piove Reggio Emilia Reggio Emilia Non è Perugia Perché Reggio Emilia Non è Perugia Perché Reggio Emilia Non è Perugia E cantano Piolis on Fire I nostri Piolis on Fire Matteo Serica Attenti ragazzi Direi che c'è il vuoto Attenti ragazzi Muldur 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 Tiro Paramegnon Perché ragazzi Perché Ecco il colpo di testa Libra per Rafa 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 Scivola Dannazione Maledetta Questo campo Stramaledettamente umido Tutte le nostre notti in bianco Ragazzi Tutte le nostre pressioni Tutte le cuffate Che ci hanno fatto E adesso possiamo liberarci È il momento più bello del mondo Vai Ma perché ci volano sempre i nostri Mi sembra di vederlo Mi sembra di vederlo Il mare del Pacifico Meraviglioso come il mare rossonero Dei nostri tifosi Mi sembra di vederla La spiaggia di Siua Taneo La spiaggia dorata dei cuori rossoneri Sì Sto vedendo Tim Robbins Che è il nostro allenatore Sta lucidando la barca Sì Abbracciatevi milanisti Come Tim Robbins E Morgan Freeman L'abbraccio più bello del mondo L'abbraccio della libertà L'abbraccio della gioia L'abbraccio della storia Nel cielo sopra Reggio Emilia Lo vedo C'è Mr. Kilpin Il nostro fondatore Yes Mr. Kilpin Well done Mr. Kilpin Vedo il paro rocco Sir Paron Alveglio Chi Sir Paron C'è la statua di Milanello Che sta Si sta conguomendo Ma vedo anche il barone Lidl Eccolo là In quell'angolo di cielo Le Dassa Grande Le Dassa Mi collego Da Sassuolo Ma nessuno ha fatto gol Din don Din don Din don Din don Din don Mi collego Da Sassuolo Ma nessuno ha fatto gol Siamo noi Siamo noi I campioni dell'Italia Siamo noi Siamo la C-Milan di Milano Sette volte campione d'Europa Quattro volte campione del mondo E diciannove volte campione d'Italia Il Milan 2022 Come il 2011 Come il 99 Come l'88 E si Milano Ciao a tutti 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 Ciao a tutti